grazie eh ma si figuri l'ho vista lì alla fermata del bus ho detto se questa se questa buona sorella sta aspettando l'Ataf tra due giorni è sempre lì, ho fatto un cacere ci manca la mano grazie grazie davvero guardi perché se no davvero arrivavo domani no 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 l'ho visto ho detto tanto guarda sono a chiusura di giornata qualche chilometro in più grazie mille signor camionista e tanto che guida lei il camion? una vita hai visto quando da piccino dici se tu farai il camionista io avevo sempre i camioncini poi a vent'anni compravo un bel tir ora ora mi sono un pochino più ritirato ma faccio viaggi lunghi eh per l'Europa Germania Austria una volta andata a Kiev stia andata a ridere a un pochino più freddo guarda lei è una scompa di convento ma davvero ma perché lo fanno uscire no uscire esco per ammotteggero ma che vuole la mia vita è qua preghiera riposo ora e te labora adesso è mia semplice sono arrivata grazie ah bella arrivata si prego grazie mille grazie si figuri sorella grazie eh arrivederci arrivederci senta signor camionista abbiamo fatto un viaggio di due ore non ci siamo neanche presentati io sono suorilaria lei come si chiama? vi voglio fare un indovinello io mi chiamo come quella cosa che lei ama tenere in mano tutte le sere allora grazie eh grazie davvero signor cazzo arrivederci no che cazzo rosario mi chiamo rosario grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti